io mi chiedo davvero come faccia questo uomo non ha nulla di umano Mick Jagger ma anche il suo degno compare cioè di Richard infatti stavo per dirtelo già davvero del sono due ottantenni che sono fuori dallo scivolo umano ma no perché si deve dire no perché siamo cioè oggettivamente uno lo dice e vabbè siamo tutti abituati e così non ci facciamo caso ma come fai a muoverti a cantare in quel modo l'altro poi cioè che Richard non è esattamente uno che fa una vita morbida lo vedi sempre ora senza voler esagerare ma per quanto si tenga c'è sigaretta in bocca qualcosa si bevicchia è bionico sono due straordinarie davvero davvero complimenti io non ce la faccio a muovermi così alla mia età quindi però sì ma al di là del della questione fisica meramente fisica in termini creativi in termini di energia cioè il concerto muove fisicamente ed emotivamente d'accordo sono abituati dagli anni sessanta che fanno concerti cioè ma è una fatica cioè è un impegno io lo vedo con le mie piccole quattro piccolissime cose che faccio in termini uno sbattone in senso cioè richiede uno da figurati a 80 anni cioè poi sei in rolling stone cioè hai da tenere per quanto gli facciano anche il caffè latte tutto quello che vuoi però poi sono loro sul palco quindi devono avere chiaro tutto quanto ma ma davvero complimenti alle passioni perché le passioni muovono il mondo mi piacerebbe anche dire che allungano la vita non lo so se se questo è di sicuro ti fanno vivere meglio a proposito di passioni francesca mogavero che non sei altro hai qualcosa in repertorio ovviamente sì allora intanto mi viene da dire un grande grazie per la giornata che abbiamo passato ieri così vi racconto brevemente ci siamo fatti letteralmente in tre perché avevamo tre eventi quasi in contemporanea un una presentazione collettiva dal titolo metizzato in cui c'erano autrici autori di case editrici differenti però hanno parlato anche di di arte di musica di poesia ed è stata l'occasione con valeria bianchimian di parlare di psicoporno alla biblioteca ginsburg di torino sì mezz'ora dopo quindi alle ore 18 abbiamo parlato in anteprima delle delle prossime uscite di gennaio tre fiaschette che sarebbero i motori della rivoluzione di elena forno naigiri di andrea monticone e la tele a torino di aldo dalla vecchia e la sala era sold out e siamo stati veramente felicissimi parleremo poi diffusamente di questi tre libri allora assolutamente sì e mezz'ora dopo quindi alle 18 e 30 alla libreria se su un mille volti sempre di torino cristina converso ha tenuto il primo incontro e dal titolo come diventare alberi una serie di appuntamenti il prossimo sarà a febbraio vi racconterò dedicato a letteratura e itinerari reali nella natura del piemonte quindi un itinerario alla scoperta delle del verde delle della nostra bella regione tre appuntamenti molto diversi molto soddisfacenti però non ci fermiamo nemmeno oggi questa sera alle ore 21 al circolo arci la poderosa quindi si entra con con tessera o la si può fare anche sul momento in via salerno presenteremo saluteremo il signor padrone di stefano valerio vi dico anche che appunto la presentazione alle ore 21 ma se arrivate prima già dalle 19 30 c'è la possibilità anche di fare aperitivo ecco io rimango a limito di fronte all'energia che che manifesti e metti in capo peraltro dell'editoria in qualche modo sì però sei molto più giovane ma moltissimissimo più giovane ma manco la metà degli anni di di ming jack c'è il tempo del mondo insomma io ho il saggio dei miei ragazzi a dicembre così do questa anticipazione e l'abbiamo intitolato books e l'abbiamo intitolato books perché ovviamente i libri avranno molto a che fare intanto quest'anno ne approfitto e mi ci infilo dentro è partito un corso di lettura espressiva ma lo dico non per pubblicizzarmi ma perché questo mi ha dato la possibilità di mettere in scena tre poesie bellissime di una poetessa straordinaria non vi anticipo oltre anche perché insomma questo è lo spazio dedicato a buendia books e poi io ci leggo un pezzo del colpo di tacco e qui sì che ho a che fare con buendia books ma soprattutto ho una cantante straordinaria che canta alcuni dei pezzi citati per l'appunto cacio e maccheroni del del libro e quindi volevo dirla qui questa questa cosa qui il 15 di dicembre bene francesca noi ti seguiamo sempre ci mancherebbe altro con tutti gli appuntamenti di buendia books ricordo il sito buendia books punto it dove troverete insomma tutto il catalogo buendia e anche tutti gli happening in corso d'opera e ti auguro ci sentiamo con la prossima settimana prima del natale ci mancherebbe molto piacere molto volentieri ciao francesca ciao un abbraccio